A1 per lavori Sulla Fipili per lavori due chilometri di coda tra Ginestra Fiorentina e Lastra Assegna in direzione Firenze Un chilometro di coda sulla carreggiata opposta in direzione Mare Ancora per lavori, rallentamenti tra Ponte della Este e Montopoli-Valdarno in direzione Firenze Sulla statale Trebis e Tiberina chiusi gli svincoli di Val Savignone e Sansepolcro Sud in direzione Ravenna Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze Buon viaggio! Buon viaggio!